Ora funziona. A più tardi. È un quarto d'ora in ritardo. Ho fame. Non pagano a Jota a imenso tempo. Estou nè di avere dinheiro. Tu non imaginas o che è che noi già passiamo con quella gente? A Segurança Social sta qua alle 4. Mi dispiace ma siamo obbligati a portare via con noi i suoi figli immediatamente. Sono i miei figli! Signora, stia calma, per favore. Vorrei delle notizie sui miei figli. Ma dove sono? Dove sono i miei figli? Tutto bene. Voglio tornare a casa! No, ehi! Mi impedite di vedere i miei figli per giorni e quando alla fine li vedo non posso nemmeno parlare con mia figlia. La visita è finita. Perché? Perché è finita? Ormai bastano pochi mesi per passare dall'assistenza a una adozione forzata. Che possibilità abbiamo? È stata abbandonata all'interno di quell'istituto per la falsa convinzione che questo fosse il meglio per lei. Qual è a dubbida? Vai acontecer.